Nell'ambito della settimana nazionale del pronto soccorso e sulle indicazioni della società scientifica nazionale è in corso al Catanzaro Lido la quarta edizione delle giornate convegnistiche Simeu, società italiana di emergenza urgenza nelle quali si affronta la tematica il sovraffollamento e le urgenze in PS. La Simeu in Calabria preseduta dalla dottoressa Lucia Orlando Settembrini ha incontrato nelle giornate precedenti al convegno gli studenti delle scuole medie superiori Chimirri e Petrucci di Catanzaro per alcune brevi ma utili lezioni di intervento di primo soccorso. Quest'anno l'argomento centrato è proprio il sovraffollamento in pronto soccorso. Il problema è importante perché investe tutti, quindi investe la società, investe le scuole, investe le famiglie, investe tutti. Abbiamo la necessità di spiegare ai cittadini quali sono le cause del sovraffollamento e questo è un argomento che trattiamo nell'ambito del congresso scientifico vero e proprio qui a Catanzaro Lido. Nelle scuole invece portiamo sempre il messaggio della settimana del pronto soccorso facendo questi incontri formativi con i più giovani. Siamo partiti nei vari anni, questa è la quarta edizione, rivolgendosi ai ragazzi più piccoli, alle scuole elementari. Siamo stati alle scuole medie e quest'anno siamo alle scuole superiori. Perché? Perché vogliamo sensibilizzare i giovani all'uso corretto del pronto soccorso, far capire quali sono i nostri problemi, cercare il loro aiuto. Perché se i ragazzi di adesso, futuri cittadini di Catanzaro di domani e di tutta Italia imparano a usare il pronto soccorso in modo corretto, sicuramente noi lavoreremo meglio e daremo le risposte migliori. L'obiettivo è sempre quello.